e ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video sull'andrestri 77 e oggi ci montonate un nuovo video su fortnite questo gioco ragazzi su mobile mi sta piacendo un botto cioè non avete idea allora ragazzi oggi faremo delle partite a Fortnite come abbiamo fatto la scorsa volta e adesso vediamo subito se al primo tentativo va raga aspettiamo un po' nel frattempo raga sapete che io nel frattempo mi stavo guardando dei video di Ninna e Matti stai dicendo che ci dobbiamo mettere qui dentro io sono già amato vabbè stavo guardando i video di Ninna e Matti ragazzi vi consiglio di andarlo a seguire fa molto ridere sono molto belli i loro video comunque niente adesso aspettiamo che si apre ok ragazzi eccoci qua nel busto della battaglia guardiamo vediamo raga no non è andato non è andato alla prima raga proviamo alla seconda volta vediamo bene raga vediamo bene è lui proviamo un'altra volta raga ok raga siamo dentro aspettiamo che la partita inizi si pensate che si sta baggando un po' perché raga devo un attimo prenderci la mano che adesso dovrebbe funzionare un po' bene raga speriamo che vada a questo tentativo eh se non va questo tentativo devo fare copie perché certe volte se non va eh quando avete fatto singolo dovete cambiare e fare copie quindi forse dopo va però raga mi sa che funziona anche riprovando una seconda volta sii raga è andato aspettiamo che tutto un po' si metta a posto che non si bagga un po' dovevo potremmo andare raga sono indeciso io mi sei qua qua però non c'è niente raga ci sono alcune cose scusate raga sta un attimo laggando ok raga ci sono non so perché stavo laggando così tanto ieri non faceva così raga quando registravo ieri andava bene c'è abbastanza bene comunque sapete raga l'epic game che mi dice che mi dico non è sopportato beh hai ragione raga ha ragione direi che ha ragione proprio perché c'è all'inizio si bugga poi dopo si bugga meno raga senza registrare vorrei che vedeste senza registrare come fornit è fighissimo raga perché non si bugga quasi c'è si bugga ogni ogni un sacco di tempo non si bugga quasi mai comunque adesso non si sta buggando tanto eh comunque ho capito perché l'epic game mi diceva che il mio dispositivo non è sopportato anche se non me ne frega un cavolo se io gioco perché voglio far vedere ai miei iscritti come si scarica fornit per dispositivi non compatibili perché io voglio tanto bene i miei iscritti voglio tanto bene raga spero che lo sapete su 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 io spero sempre che i miei video vi piacciono raga ci tengo morta questa cosa qua comunque raga vi voglio bene mi dispiace se ad alcuni di voi fornit non va non so neanche io perché perché forse cavolo vorrei conoscervi raga così venite a casa mia e vi faccio vedere come si fa ehm così lo eh così così ve lo faccio io e siete a posto eh eh comunque io sono già armato bene raga i cessi la cosa la cosa su fornit più bella i cessi che bello raga i cessi mmm prendiamoci delle bende ci servono ok però io mi terrei in mano un cecchino o un bomba perché se mi spunta qualcuno uno beh raga io vado a vedere se ci sono delle persone andiamo a vedere se ci sono delle persone raga ci sono dei passi qua vicino ecco ok morto morto raga morto ci sto prendendo la mano comunque a giocare a fornit raga infatti c'erano dei passi raga qua vicino ehm questo medikit lo sostituiamo con questi qua ehm direi di tenermi il pompa raga perché io il pompa lo so usare benissimo ma l'arma del gioco può usare meglio quindi secondo me mi serve il pompa ok qua non ci devo proprio nelle vicinanze non c'è più nessuno perché non ci sono passi quindi raga andiamo in motoscafo voglio di andare in motoscafo ok allora no no motoscafo vieni qua ok mi stanno sparando raga aiuto suuuu raga è arrivato un lanciarazzi avete visto nell'acqua che prima è arrivato un lanciarazzi ok è molto strana questa cosa io non ho mai visto raga un un motoscafo andare da qui andare sulla terra però dettagli vabbè aaaaaaah si vabbè raga andiamo via da sto motoscafo che mi che non ci sto capendo niente via let's go via no no voglio andarmene da qua come si fa ah c'è da tenere più conto vabbè ah ma qua ci sono dei pesci raga non è un lanciarazzi quello che prima è arrivata mi sembra di aver visto qualcosa tipo lanciarazzi ma non è un lanciarazzi vabbè ragazzi siamo rimasti in 26 io sto andando a vedere in questa città se ci sono delle persone non lo so però ho voglia di uccidere certe persone ho fatto già una kill madonna per me è già tanto eh ti ho visto no raga non riesco a spararlo uff era nabo però no un'altra mi spara c'è un'altra che mi stava sparando raga mi era sembrato di vederlo eh si mi stava sparando ma da dove che non ho capito io che non ho capito da dove mi sparano ah da lì vabbè vabbè rega siamo morti che non ho capito da dove mi spara la cosa la godo la godo raga abbiamo adesso raga abbiamo adesso un negozio raga cosa c'è perché c'è scritto presto mi devo sblocca sblocca fra 6 giorni 13 giorni ci saranno degli eventi cos'è ancora aperte ah cosa si sono dei nuovi mondi ah sono dei nuovi mondi forse non lo so non so se ho capito bene qua raga io vorrei delle skin cavolo però non posso sciopare bella raga bella raga direi di mettere questo ok salve dish allora vediamo qua eh voglio sciopparmi tutto voglio sciopparmi queste skin queste ho questo è tutto scioppiamoci questo 4,99 magari i miei vabbè raga comunque spero il video vi sia piaciuto lasciate like iscrivetevi se non l'avete fatto e vabbè raga noi ci rivediamo nel prossimo video ciao bella raga